www.feyyaz.tv Una volta era impossibile fermarsi, si vestivano. Che poi sarebbe più bella così e che fa anche paura. Se ti possiamo pensare a me, io ci stiamo a casa, faccio un appartamento serio, una residenza di livello. No! Bisogna che trovate un accordo. Devo mandare fuori da casa. Cos'è duro, tuo frateo, eh? Cos'è duro? Bisogna andare. Non ti dà paura che si fermi di nuovo tutto? Tu credi di avere ragione, Piero, ma ti dà solo paura. Questa c'è anche a casa mia! Io non la perdo quest'occasione. Ricordi te che i turisti magari non li torna più, ma i gran si li sarà sempre.